buongiorno a tutti in genere sapete che faccio la conferenza stampa per partita oggi invece vi dovrete accontentare del video pre partita perché ho spiegato chiaramente che per stare vicino al mio cagnone avendo una moglie che lavora e che ha dei turni ovviamente non posso accorre il rischio durante la live che mi chiami abbia visione di me io farei delle figure barbine sapete che ci tengo molto all'etichetta quindi preferisco fare un video fino a che non sarà me non starà meglio vi dovrete accontentare del video ma comunque non è che dico cose diverse diciamo che le dico in maniera più stringata senza il vostro interlocutorio ma poi venite venire sotto a commentare allora domani la partita che ci sarà con la samp doria sulla carta che è pericolosissima la carta da quando abbiamo allegri in banchina dovrebbe essere una partita agevole la sampdoria una delle squadre più scarse della serie a in grande difficoltà anche come come società a livello economico insomma ha un sacco di problemi tra l'altro pare che ci sia dentro la sampdoria anche nelle squadre che non si sarebbero potute scrivere il campionato non so se vi può interessare nella carta segreta di cui ho parlato ieri a mezzanotte e juve sampdoria io ormai non mi aspetto più che sorpresa da allegri allegri mette sempre in campo delle formazioni strambe io quando ho visto che c'era minaretti non fagioli ho detto o fa apposta o fa apposta o ci prende in giro o non capisce niente di calcio perché lo sanno anche i sassi che fagioli è nettamente più forte nettamente più bravo di minaretti e poi il campo l'ha dimostrato non mi aspetto tanto io sono sempre qua che spero che arrivino più di due due o tre palloni a dusan perché poi altrimenti arriva arriva il pubblico ludibrio dusan è scarso dusan è scarso io guardate cosa vi dico oggi parlando di san di vento sampdoria faccio un ragionamento un po controcorrente io stravedo per dusan vlaovic per me è un grande centro avanti io spero che venga venduto guardate cosa vi dico che venga venduto a una squadra potenzialmente forte che possa essere il milan che possa essere liverpool possa essere chi volete voi e grazie ai suoi gol vlaovic faccia vincere la champions league dopo quella sera stessa in cui quella squadra dovesse vincere la champions league grazie ai gol di vlaovic io farò un video dove manderò a fare in culo tutti quelli tutti quelli che hanno detto che vlaovic è un bidone perché uno che dice che vlaovic è un bidone secondo me col calcio non c'entra niente vlaovic gioca sempre spalle alla porta viene servito male e poco e quando è marcato da tre giocatori anche se è un marcantonio non è facile sapete uscire dalla morsa di tre giocatori che ti marcano lo sanno tutti se giochi con una punta caro allegri con una punta caro allegri che se tu giochi con una punta caro allegri i difensori della squadra avversaria si concentrano sulla punta anche perché noi abbiamo dei giocatori che non fanno gol costici non è un centrocampista che fa gol quadrado fa un gol ogni morte di papa rabbio forse è l'unico che ne fa qualcosina in più locatelli non fa gol neanche si toglie il portiere fagioli ne ha fatti due poi però purtroppo non è più fatti l'unico di maria ma di maria non è un giocatore così è un fuoriclasse chiesa purtroppo non è ancora lui po va una volta stanco una volta non sta bene una volta va in ritardo dai ritiri diciamo che non è che siamo messi bene però però la partita di domani sera va vinta va vinta assolutamente vinta perché l'avversario è nettamente alla nostra portata anche se abbiamo visto con il nante col friburgo che sono più o meno a mio modo di vedere a livello della sandoria abbiamo fatto una fatica tremenda soprattutto in casa perché quest'anno noi facciamo quasi più fatica in casa che fuori non so se l'avrete notato al di là delle battoste prese a napoli ea ovviamente col milan ma quello sono due cose un po differenti insomma io mi aspetto una juve vincente non mi aspetto certo una juve bella perché lo sanno anche i sassi di di matera che finché ci sarà allegri il bel gioco non lo vedremo mai non lo vedremo mai ma non soltanto non vedremo il bel gioco non vedremo il gioco perché magari arriverà un altro allenatore che non ci farà vedere il bel gioco ma avrà un costrutto delle idee interscambi fra i giocatori sovrapposizioni movimenti senza palla l'abc del calcio non c'è bisogno che ve lo dica max montagna l'abc del calcio purtroppo noi con allegri non siamo neanche alle aste sapete non che a scuola prima si imparano le aste e poi ti insegnano l'alfabeto siamo al fermi alle aste poi zero lifici che facevano i primari nella preistoria noi l'uomini della detta della pietra siamo quei livelli qua calcio anni 30 anni 40 allegri quindi incrociamo le dita speriamo che juve samp ci porti tre punti che sarebbero fondamentali anche se anche perché se poi ci tolgono quelli che ci hanno dato in penalizzazione ci potremmo trovare in alto in alto sempre più in alto diceva il buongiorno grappa bocchino sigillo d'oro forza juve ci vediamo domani sera analisi e post partita e pagelle ciao